Ciao a tutti, si conclude con questo video il nostro viaggio intorno al mondo. Abbiamo attraversato tanti paesi, tanti continenti e oggi come ultimo video, come ultimo continente, se vogliamo mangiare l'America. Abbiamo scelto una torta molto autunnale, anche molto indicata adesso che arriva il periodo di Halloween, davvero tradizionalissima. Si tratta della pumpkin pie, una torta che si fa soprattutto negli Stati Uniti e sicuramente molti di voi la conosceranno perché è famosissima. È una torta profumata, ha davvero quell'aroma d'autunno che in questo periodo fa davvero piacere. Si può mangiare in qualsiasi momento della giornata ed è anche facilissima da preparare. Vi faccio vedere subito come. Impastiamo in una ciotola la farina di riso, la farina di grano saraceno, l'amido di mais, lo zucchero di canna, il lievito, lievito ovviamente quello per dolci e possiamo dare una prima mescolata. Adesso andiamo a versare l'olio, in questo caso aggiungiamo l'olio d'oliva che secondo noi si sposa molto bene con la zucca ma potete utilizzare anche l'olio di semi un po' più delicato. Impastiamo bene con il cucchiaio in modo da formare queste grosse briciole, un po' come si fa la classica brisè. Adesso andiamo ad aggiungere poco alla volta il latte di soia. In questo caso utilizziamo un latte di soia alla vaniglia ma potete utilizzare anche un latte di riso o un latte di mandorla. Impastiamo bene prima nella ciotola e poi a mano se c'è bisogno ci aiutiamo anche con un pochino di farina. L'impasto comunque dovrà essere bello morbido. Lo lavoriamo appena, giusto per renderlo ancora più omogeneo e liscio e possiamo rimetterlo nella ciotolina, chiudere con un foglio di pellicola e lasciarlo riposare in frigo. Adesso possiamo pensare al ripieno, quindi affettiamo la zucca prima togliamo bene tutta quanta la buccia. Vi consigliamo di utilizzare una zucca abbastanza dolce e corposa come ad esempio la zucca mantovana o quella di chioggia. Affettiamo e facciamo a pezzettini, anzi pezzettoni, comunque dovranno cuocere quindi non fateli troppo piccoli altrimenti rischiate che prendono troppa acqua. E versiamo tutto quanto nel cestello della nostra vaporiera. Questa è la vaporiera che noi metteremo nel microonde. Se non ce l'avete potete utilizzare una qualsiasi vaporiera oppure stufarli con un goccino di acqua in padella. Quindi nel nostro caso andiamo a mettere nel microonde e cuocere. Una volta che la zucca sarà pronta, noi ci sono voluti circa 7 minuti, la possiamo mettere in una ciotola e con una frusta iniziamo a romperla per bene. Dovrà venire un composto quanto più omogeneo e liscio possibile, quindi cercate di spenderci qualche minuto. Potete aiutarvi anche con un frullatore e ridurre così un pochino il tempo. Ok, una volta che sarà bella morbida, possiamo aggiungere il miele. Se non volete mettere il miele potete mettere anche lo zucchero oppure uno sciroppo di riso o anche lo sciroppo d'acero. Rompiamo l'uovo e aggiungiamo il resto degli ingredienti. Quindi lo yogurt greco, la farina di riso e le nostre spezie. Noi abbiamo messo lo zenzero, il ginseng e la cannella. Potete utilizzare le spezie che preferite, anche chiavi di garofano, noce moscata. Ok, impastiamo bene, guardate che bei colori, molto autunnali devo dire. Ed ecco qui dopo aver mescolato bene con la nostra frusta, guardate che bella crema che è venuta. Possiamo stendere la nostra pasta di base. Quindi mettiamo un foglio di carta forno, ce la mettiamo sopra e adesso con le mani delicatamente, con un pochino di pazienza andremo ad appiattirla. Io mi vado a mettere un pochino di farina sulla superficie, così sarà più semplice appiattirla. Preferisco utilizzare le mani all'inizio perché essendo completamente gluten free è molto delicata, quindi vado ad appiattirla delicatamente cercando di fare un cerchio quanto più preciso possibile. È un'operazione davvero facilissima questa. Mi aiuto sempre con un pochino di farina sulla superficie e continuo così. Infine per rendere la superficie davvero liscia e livellata passo anche in questo caso molto delicatamente il mattarello. Non dovrò premere molto, basterà semplicemente passarlo un pochino per allisciare un po' le mie ditate. E questo è il risultato. Adesso vado a foderarmi lo stampo, abbiamo scelto il classico stampo per le crostate, potete scegliere anche uno stampo con una forma diversa dalla nostra e lo vado a sagomare su tutta quanta la teglia. Con un coltellino bucherello la superficie della torta e ci versiamo dentro finalmente il nostro composto alla zucca. Livelliamo con un cucchiaio e risvoltiamo il bordino della nostra pasta frolla gluten free. Guardate che meraviglia! E adesso non ci rimane che infornare, quindi mettiamo a 175 gradi per circa una mezz'oretta. Ed ecco qui la nostra pumpkin pie pronta, cotta ed è veramente meravigliosa, anche senza grosse decorazioni e portata a tavola, così fa davvero la sua figura. Guardate che bei colori! Prima di servirla vi consiglio di farla raffreddare bene bene così non correte a nessun pericolo di rompere qualcosa. Ed ecco qui insomma come si presenta la fetta, la base di pasta frolla senza glutine rimane molto friabile e anche molto molto leggera. Invece l'interno alla zucca ha una consistenza compatta ma al tempo stesso anche bella cremosa e infatti si taglia perfettamente e insomma è davvero una squisitezza. Quindi una torta 0% glutine e davvero buona buona buona! Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e spero tanto che vi sia piaciuto anche il nostro viaggio in giro per i continenti alla scoperta dei loro profumi e delle loro ricette. Io vi mando un grosso bacio e se volete mettete un mi piace! Ciao! 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 Ciao!